Musica Ciao a tutti ragazzi, bentornati su FreakX Italian e questo nuovo video in cui vorrei presentare una persona speciale che è entrata nel cuore di tutti noi, che ha fatto parte di FreakX Italian la persona in questione, che non tutti conosceranno, soprattutto i nuovi iscritti, è Massimo Ciao a tutti ragazzi, io sono Massimo, ho partecipato agli albori di FreakX Italian poi ho avuto qualche complicazione al ginocchio, sono stato operato due volte e adesso penso di aver recuperato e adesso cercherò di dare una mano ai FreakX Italian per i futuri video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti